Buongiorno, avrei bisogno. Buongiorno. E' chiuso. Per la tua impresa, cerchi un conto che non ti faccia perdere tempo e denaro? Nasce in Prendo One. Il conto per le piccole imprese è 5 euro al mese per risparmiare tempo e denaro senza rinunciare a una consulenza dedicata. Gratis per 6 mesi. Unicredit Banca. Posso contarci.